A caldo derubricata battuta di spirito, la sortita del sindaco Franco Landella non sarebbe invece un trascurabile siparietto incorniciato nella presentazione del cartellone estivo. Annunciando uno scoop, considerato il clima da campagna elettorale, si rivolge direttamente ai sanseveresi e considerati i risultati che ha conseguito a Foggia, sponsorizza il suo assessore alla cultura, Anna Paola Giuliani, come sindaco di Sansevero. Penso che sia una donna all'altezza di un ruolo importante, testuali parole, al servizio questa volta della sua città. La diretta interessata non riesce a dissimulare un'espressione perplessa, evidentemente sorpresa dall'uscita. In apertura, l'assessore si era lasciata andare ad una dichiarazione di stima e di affetto nei confronti del primo cittadino, uno degli incontri più belli e fortunati della sua vita, aveva detto, grata che avesse scelto una perfetta sconosciuta, per di più portata qui da Sansevero. Un talent scout, scherza Landella, che dopo averla preparata la offre alla sua città. Per il momento, Anna Paola Giuliani declina elegantemente e resta a Foggia. Il suo nome negli ultimi giorni era circolato piuttosto tra i papabili per la candidatura a sindaco del capoluogo d'Aono. Ho scelto Anna Paola Giuliani perché ne conoscevo le sue qualità politiche. Lo ha dimostrato nell'assessorato alla cultura, portando un livello altissimo, notevole, riconosciuta a livello regionale. E quindi penso che una donna che ha dimostrato in un territorio che non conosceva di avere delle qualità politiche, io mi auguro che a Sansevero non si faccia scappare questa donna e questa opportunità. Quindi se fosse per me, io la trattenerei qui a Foggia. Ma visto che lei è di Sansevero e si ritorna a eleggere il sindaco, penso che sia una figura autorevole, che ha una storia anche politica, e che può migliorare le condizioni di una città come Sansevero che non è che stia navigando in buone acque. Il sindaco scherzava sicuramente poc'anzi. No, io al momento sono qui, resto qui. In questo momento non vorrei essere da nessun'altra parte, per cui il futuro è ancora un'incognita. Mi godo il momento, non ho ancora deciso poi che cosa voglio fare da grande. Adesso veramente ho voglia di godermi il presente, il mio presente parla foggiano. Quello che accadrà di qui a un anno è davvero troppo presto, troppo prematuro per dirlo. Sono fortunata, questo sì, perché forse pochi hanno la fortuna di poter amare due città, come capita a me. Una è Foggia e l'altra a Sansevero sono le due città del mio cuore. Ma davvero al momento c'è ancora tanto da lavorare qui, per cui va bene così.